Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, sono Biak e in questo video vi farò vedere altre 50 cose che molto probabilmente non sapete su Minecraft. Grazie all'incudine è possibile riparare oggetti incantati senza perdere l'incantesimo. In più, se noi uniamo due oggetti che hanno lo stesso incantesimo, in questo caso Contracolpo 1 e Contracolpo 1, i livelli degli incantesimi si sommeranno e otterremo un oggetto, in questo caso Contracolpo 2. Gli Endermite o Acari dell'Omega vengono danneggiati quando camminano sulla sabbia delle anime. Rompere l'erba non fa diminuire il numero di utilizzi di un oggetto. Dalla 1.8 il muso del maiale è stato reso 3D, infatti ora il naso sporge di qualche pixel. Prima della 1.8 il naso era solo disegnato. Se uccidiamo una strega mentre sta bevendo una pozione, c'è una possibilità che ci droppi la pozione che stava bevendo. Le streghe possono bere la pozione di resistenza al fuoco, che le rende immuni dai danni subiti dal fuoco e dalla lava. In più possono bere la pozione di respirazione subacqua per evitare di annegare e non possono neanche soffocare nei muri, perché riescono a bere pozioni di guarigione abbastanza velocemente da recuperare la vita man mano che la perdono. La pioggia spegnerà le frecce sparate dagli archi che hanno l'incantesimo fiamma. Solo dalla 1.8 gli slime possono nuotare, infatti nelle versioni precedenti andavano a fondo ed annegavano. Spesso alle coordinate 0, 0, 0 si verificano dei bug. In questo caso, che siamo nella 1.8, c'è questo parallelepipedo bianco. Nella 1.8.1 pre-release 2, invece, a coordinate 0, 0, 0, ci sarà un blocco di legno grezzo. Tutto il mondo di Minecraft è delimitato da questa barriera qui, che si trova a 30 milioni di cubi. E come potete vedere non è possibile attraversarla. E' possibile evocare un fulmine senza l'utilizzo di mod grazie a questo comando. Quando venite colpiti da un fulmine, c'è una piccola probabilità che vi si droppi una stella del nether. Potete disattivare un faro piazzandoci un blocco sopra. Naturalmente, nel momento in cui riromperete il blocco, il faro si riattiverà e i suoi effetti continueranno. La terra brulla, ossia quella speciale terra su cui non può crescere l'erba, se viene zappata diventa terra. Come potete vedere è tornata terra normale, perché in questo quadratino è appena cresciuta dell'erba. La terra zappata, che si trova ad una distanza maggiore di 5 cubi da una fonte d'acqua, tenderà a tornare terra normale. C'è una probabilità su mille, più precisamente lo 0,164%, che una pecora si sponi rosa. Se rompete dell'erba alta, avete il 5% di possibilità che vi si droppi un seme. Se invece usate l'acqua, avete il 70% di possibilità che vi droppi dei semi. Se rompete del grano maturo, vi darà sempre almeno un seme. Se invece rompete del grano non maturo, avete il 90% di possibilità che vi droppi un seme, e il 15% di possibilità che ve ne droppi 3. Rompere un blocco di sabbia con una spada ne consuma due utilizzi. Sulla glowstone non si possono piazzare pulsanti, pressure plate o leve. Nel mondo normale, l'acqua scorre per 8 blocchi, e la lava 4. Nel nether, invece, anche la lava scorre 8 blocchi, e scorre molto più velocemente. Un'ascia di diamante fa lo stesso danno che una spada di ferro. Con un piccone di diamante, si può rompere un blocco di osciliana in 9,4 secondi. Con tutti gli altri tipi di piccone, invece, si impiegheranno 4 minuti 10 secondi, e una volta rotto il blocco, questo non verrà droppato. Un blocco infestato da un silverfish o pesciolino d'argento, è sempre più duro da rompere rispetto a un normale blocco di pietra. Attraverso il comando GameMod3 è possibile andare in modalità spettatore. In questa modalità potremo liberamente volare. Se clicchiamo col tasto sinistro, quando siamo vicino a un mob, vedremo attraverso i suoi occhi. Per uscire dalla visuale di un mob, basterà premere il tasto Shift. Particolari sono la visuale del Creeper, dell'Enderman e del Ragno. Il Ragno, infatti, vede in questo modo, diciamo, come se avesse 6 occhi. Il Creeper, invece, vede tutto verde e pixeloso. Il Lenderman, invece, vede negativo. Solo gli slime grandi e medi vi attaccheranno. Quelli piccoli non vi faranno nessun tipo di danno. I cuccioli di cavallo crescono più velocemente e se vicino ad essi vengono piazzati dei blocchi di fieno. Quando rompiamo i blocchi che compongono i funghi giganti, c'è una possibilità che ci vengano droppati dei funghi. Se un mob viene investito da un minecart, c'entra dentro. Se si piazza un blocco dietro delle rotaie alimentate, tutti i minecart che vengono piazzati nella rotaia di fianco al blocco partono automaticamente. Se fate salire un maiale in un minecart e lo sellate, potete montarci sopra e comandare il minecart anche fuori dalle rotaie. I tasti però sono invertiti, quindi col tasto su andrete giù e con quello giù andrete su. E col tasto destra andrete a sinistra e con quello sinistra andrete a destra. Porte sia aperte che chiuse, botole sia aperte che chiuse, presso il plate e cancelletti sia aperti che chiusi bloccano l'acqua. Anche i cartelli bloccano l'acqua, infatti sono usati per creare di semplici ascensori ad acqua. Le barche salgono automaticamente le cascate. I minecart con TNT esplodono anche se cadono da una certa altezza. Per asciugare una spugna occorre cucinarla nella fornace. Se prima che la cottura sia completata mettete un secchio vuoto dove dovreste mettere i combustibili, a fine cottura otterrete un secchio d'acqua. Le spugne asciutte assorbono l'acqua nel raggio di 5 blocchi. Sabbia e ghiaia, se cadono sopra mezzi blocchi come torce, fiori, slab eccetera, vengono distrutti. Le incudini invece distruggono le torce, ma vengono distrutte dai fiori e dagli slab. Il fuoco è l'unico oggetto su minecraft che dà un livello di luminosità pari a 15. I villici possono piantare sulla terra zappata patate, carote e grano. Il Wither Boss è il mob con la vita più alta, infatti al doppio della vita dell'Hender Dragon, ossia a 200 cuoricini. L'Hender Dragon ne ha solo 100. Se piazzate una testa e rompete i blocchi sottostanti, la testa rimarrà sospesa in aria. Attiverete una trappola in ciampo anche se rompete il filo. Tuttavia, se lo rompete con la cesoia, disiniescherete la trappola senza attivarla. Le uova di Skeletro nel Nether faranno quasi sempre esponare Skeletri Wither. Un cubo di neve è alto 1, ma se noi creiamo un cubo di neve piazzando 8 strati di neve, otterremo un cubo alto 0,875. Se cliccate una creatura con il suo uovo, otterrete i cuccioli di quella creatura. Naturalmente questo vale solo per le creature che hanno dei cuccioli. L'unico modo per ottenere l'armatura di maglia è quella di barattarla con questi tipi di villaggere, ossia i fabbri, oppure tramite trucchi. Ragazzi, queste erano le 50 cose che molto probabilmente non sapevate su Minecraft. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate e al prossimo video. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!